bella a tutti ragazzi prima di andare a vedere il video voglio ricordarvi il mio codice creator xyuderone grazie mille per il vostro supporto attenzione ogni 14 giorni scade quindi non dimenticatevi di controllare se ce l'avete e ovviamente mandatemi una storia su instagram uno screen quello che volete io vi reposterò ma adesso video allora secondo me possiamo fare un po di credito se sono d'accordo giochiamo in 31 91 f no no io e martex contro e festo è diversa la cosa ne gusta si si uno di due dei metri su è uno v2 ma sta facendo allora f vai nella squadra 2 io martex rimaniamo in squadra 1 ma questo è lo d'altro che rimane per tutto il game no no cambia ogni ogni game i martex ammazzalo è un bastardone martex è un bastardone martex viene a restarmi a perché si può restare ma figurati non mi farà mai restare martex ammazzalo vai martex non ci credo mai ha vinto il festazzo bastardo ok 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 strutturiamola bene strutturiamola bene che si fa e lo pusciamo in due altrimenti ha solo quei colpi dici farlo salire perché un bastardone salga salga dove è andato sono sceso sono sceso è qua sotto è qua sotto ho preso tantissima vita e scivigliaco e io sono su con lui è sono su con lui io continuo a scendere arrivo su Votrm bias è entrato qua eh 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 meggo c***o ! non era morta 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 c'ho provato volevano Mine PCM e non lo so volevo portarla via il campie lisi non lo so a c***o xxx se la fa fare qualcosa da solo Martex sta giocando ma viene E' così? Fammi salire il massimino, cioè non lo so. Bartex! Dove cavo sei? Dove devi giocare insieme, è pronto. Ma c'è Bartex che non ha un'idea, ma ancora non è arrivato. No, è questo, è questo. Non ce la facciamo, non ce la facciamo. Allora, saliamo insieme a questo giro. Allora, va bene, ok, Bartex, rivoluziamo alla situazione. No, dobbiamo andare a trenino. Sì, sì. A martex guardavo a destra e io stavo a sinistra. Trenino. Allora, ti sto attaccato. Tu apri, io lo pompo. Chi va avanti? Qualcuno apra per Gesù. Ok, qua. Staccato. Dai, dai, dai. Pompalo, pompalo. Dov'è, dov'è? Ho perso. Dov'è vola? Non lo so, è andato via? Dov'è andato? È sceso, è sceso, è sceso. Ma come è sceso? Inseguilo, inseguilo. Let's go. Mi hai scusato che Martex non sente un cazzo. Non capisco dove sono. Easy. Vai Martex, usciamolo subito. Tutto e due così, eh. Dove sei Xiu? Sono su con te. Io ce l'ho sotto, ce l'ho sotto. Benissimo. Eccomi. Lo vedo, lo vedo. 34 blu. Sono sopra? Sono con te, sono con te. Non lo vedo più, dov'è? C'è lui, c'è lui, Martex. Ho fatto il pirla. Era supercrackato. Vai, sparagli! Dannazione. Ce la fai, ce la fai. Ce la fai, megacrackato. Per favore, fai qualcosa. No, 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 no. Fai qualcosa. No, Daga, ma perché? Prego, Martex, le spari, spari, gli spari. No, Martex. Vai, questa miss. È tu, è tu, è tu, è tu, è tu. Sto leva, non spara più. Vai, Martex, non so cosa fare. Siamo fottuti. No, Martex, la prego, la prego, la prego, la prego, la prego. Non vale, questo. Sto la fa piccola. Ragazzi, ho missato due volte, avevo una mappetta per buildare prima quando era nel box. Madonna. No, ci siamo, Martex. Secondo me c'è una strazia, c'è adesso. Sì, sì, sì. Tanto che XS non capisco dove sono. Mi do già un po' fastidio. Ok, Trento, stay. Sì. Dove sei, dove sei? Qua sopra con lui. Entro, entro, entro. Ti prego, entro velocemente perché... Non spara, è freddo, non spara! No, dai, questo non è giusto, non ha sparato il pompa. Eh dai, crepa, non crepa ragazzi, è immortale. Il mio pompa ha fatto chic, chic, chic. Cosa ha fatto, Zompa? Chic, chic, chic. Grande pompa di XS. C'è quanto hai male al suo dietro. Ok. Certo, treda. Buoglio e festo! Let's go! No, no. È distrutto. Easy. È distrutto a Chiappone. Sì. Chiappone è distrutto. Vai Martex. Vai. Andiamo, andiamo, andiamo. Bene, è entrato benissimo. Arrivo? No, no, non ce la faccio. Pronto, XS, è pronto, pronto. Mi è andata benissimo, è festazio, che tu hai il buco dal c***o spanato. chiedo scusa sempre per la mia volgarità nella chat di Martex, scusatemi. Ok, vai, come prima, come prima Martex, vai. Vai, vai, vai. Andiamo, andiamo, andiamo. Mi fa le cupole. Guarda, vai! Un famello. Vabbè, ma torniamo che sui tre, va. No, 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 no. Martex, c'è un problema tecnico! Dov'è, dov'è, dov'è? Certo che sei in boscato! Oh! E' nelle casette. Oh, che casette, è qualche rompa la minchia. E' nelle bed and breakfast qua sotto. Ok, arrivo. 27, non prende danno. Ah, ma non c'è, ma che tu hai! Che fa che mi guarda? Allora, adesso ti do il peperoncino calabresso, ok? Arrivo. Oh, oh, oh! Non ci credo! Oh, meno 108, XS! No! andiamo non far ridere non ero lì vicino io sono qui con lui mi stai seguendo a me lo facciamo in due mi continuo a pompare male 30 ancora ma perché prende sempre 30 è superi crancato let's go easy easy pure dice ha capito easy ma da me qua da me boxato sto salendo martex dietro dietro figlio di un efesto mi ha pompato questo non è mio ma no la voglio salvare non lo so sembra che mi sta per far cadere f non rompermi la mica che mi deve restare ci siamo ci siamo easy chiudi tutto quanto questo entro devo curaggiarmi e vabbè ma quanto c'era il ping lui e questo non sei simpatico che succede xio? martex ammazzalo non può non farcela e la faremo vai vai maxio non è ancora morto io sono vivo sempre sono un alieno no è scotto sta crepando martex io l'ho l'audio so che sta sopra le sardi martex è un culo adesso io ti faccio vedere io chi è qua adesso ti prendi una pompata che te la ricordi oddio ripresa queste martex ma siete caduti tutte e due? no solo io devo smettere di essere arrestati in creativa qua sotto con me è qua sotto con me è full shield bravo e festo applaudiamo bravo bravo oh devi aspettare oh what bello shot what applausi martex che lui riesce a uccidermi martexone festazzo io vi devo salutare devo staccare vi saluto e un buon appetitentrani no ragazzi ciao ciao martex ciao evo ciao grazie ciao 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 ciao